e questa è la scia del Django 980 Ezio, quanto stiamo facendo? molto calo di vento ma adesso spero che tra qualche metri andremo in un po' eccola lì, sta arrivando la raffica eccola qui guardate, allora ragazzi la barca si piega ma tendenza a partire all'orza zero zero proprio siamo già a 6.4, 6.5 6.6 6.8 6.9 7 7.1 divertentissimo ci siamo stabilizzati su 7.1 una barca veramente da crociera velocissima si, possiamo definirla da crociera velocissima molto francese tantissime soluzioni interessanti guardate il poggiapiedi il sistema della raffa quindi il calarello con 100 km splendido splendido grazie a tutti